ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco bravdovi pier faber farma srl ultimo aggiornamento 6 ottobre 2021 cosa bravdovi confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere bravdovi durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cosa bravdovi bravdovi a un farmaco a base del principio attivo ancora fenivi appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico inibitori serina tre onina kinasi di raf brav è commercializzato in italia dall'azienda pier fabre farma srl bravdovi può essere prescritto con ricetta rnrl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti confezioni bravdovi 50 mg 28 capsule rigide bravdovi 75 mg 42 capsule rigide informazioni commerciali sulla prescrizione titolare pier fabre medicament concessionario pier fabre farma srl ricetta rnrl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti classe h principio attivo ancorafenib gruppo terapeutico antineoplastici forma farmaceutica capsula indicazioni ancorafenib ha indicato in associazione con minimetinib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione brav v 600 vedere paragrafi 4 4 e 5 1 in associazione con cetuximab per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma metastatico del colon retto crc positivo alla mutazione brav v 600 e che hanno ricevuto precedente terapia sistemica vedere paragrafi 4 4 e 5 1 posologia il trattamento con ancora fenivi deve essere iniziato e supervisionato sotto la responsabilità di un medico esperto nella somministrazione di medicinali antitumorali posologia melanoma la dose raccomandata di ancorafenib a 450 mg 6 capsule da 75 mg una volta al giorno quando usato in associazione con minimetinib carcinoma del colon retto la dose raccomandata di ancorafenib a 300 mg 4 capsule da 75 mg una volta al giorno quando usato in associazione con cetuximab modifica della dose melanoma la gestione delle reazioni avverse può richiedere la riduzione della dose l'interruzione temporanea o l'interruzione definitiva del trattamento con ancora fenivi vedere tabelle 1 3 e 4 per informazioni sulla posologia e le modifiche della dose raccomandata per binimetinib vedere paragrafo 42 della rcp di binimetinib le raccomandazioni sulla riduzione della dose per ancorafenib sono presentate nella tabella 1 tabella 1 modifiche raccomandate della dose di ancorafenib quando usato in associazione con binimetinib per l'indicazione terapeutica melanoma livello di dose dose di ancorafenib quando usato in associazione con binimetinib dose iniziale 450 mg una volta al giorno prima riduzione della dose 300 mg una volta al giorno seconda riduzione della dose 200 mg una volta al giorno modifica successiva ci sono dati limitati per la riduzione della dose a 100 mg una volta al giorno ancorafenib deve essere interrotto definitivamente se il paziente non ha in grado di tollerare 100 mg una volta al giorno non ha raccomandata la somministrazione di ancorafenib alla dose di 450 mg una volta al giorno come agente singolo se binimetinib temporaneamente interrotto ancorafenib deve essere ridotto a 300 mg una volta al giorno durante il periodo di interruzione della dose di binimetinib vedere paragrafo 42 della riassunto delle caratteristiche del prodotto di binimetinib rcp poi cacopi raiden corafenib non ha ben tollerato alla dose di 450 mg come agente singolo se binimetinib viene interrotto definitivamente ancorafenib deve essere interrotto definitivamente se ancora fenni va temporaneamente interrotto vedere le le tabelle 34 binimetinib deve essere temporaneamente interrotto se ancora fenne i va interrotto definitivamente anche binimetinib deve essere interrotto definitivamente se si verificano tossicità correlate al trattamento allora in corafenib di vinimetinib devono essere ridotti nella dose interrotti temporaneamente o interrotti definitivamente Le modifiche della dose necessarie per il solo minimetinibio, reazioni avverse principalmente correlate al minimetinibio, sono le seguenti. Distacco dell'epitelio pigmentato della retina, ARPED, retinal pigment epitelial da etacment, occlusione della vena retinica, RVO, retinal vein occlusion, malattia polmonare interstiziale barra polmonite, disfunzione cardiaca, creatin fosfochinasi, CPK, aumentata erabdomiolisi e tromboembolia venosa, BTE, venous tromboembolismo. Se si verifica una di queste tossicità, vedere paragrafo 4, 2 della RCP di minimetinib per le istruzioni sulla modifica della dose di minimetinib. Carcinoma del colon retto. La gestione delle reazioni avverse può richiedere la riduzione della dose, l'interruzione temporanea o l'interruzione definitiva del trattamento con ancorafenib, vedere tabelle 2, 3 e 4. Per informazioni sulla posologia e le modifiche della dose raccomandate per cetuximab, vedere paragrafo 4, 2 della RCP di cetuximab. Le raccomandazioni sulla riduzione della dose per ancorafenib sono presentate nella tabella 2. Tabella 2. Modifiche raccomandate della dose di ancorafenib quando usato in associazione con cetuximab per l'indicazione CRC. Livello di dose. Dose di ancorafenib quando usato in associazione con cetuximab. Dose iniziale 300 mg una volta al giorno. Prima riduzione della dose 225 mg una volta al giorno. Seconda riduzione della dose 150 mg una volta al giorno. Se ancorafenib ha interrotto definitivamente, cetuximab deve essere interrotto definitivamente. Se cetuximab ha interrotto definitivamente, ancorafenib deve essere interrotto definitivamente. Melanoma e carcinoma del colon retto. Modifiche della dose in caso di reazioni avverse sono fornite di seguito e nelle tabelle 3 e 4. Per nuovi tumori maligni cutanei primari, non sono necessarie modifiche della dose di ancorafenib. Per nuovi tumori maligni non cutanei primari positivi alla mutazione RALS, deve essere considerato di interrompere ancorafenib definitivamente. Tabella 3. Modifiche raccomandate della dose di ancorafenib quando usato in associazione con minimetinib o con cetuximab per reazioni avverse selezionate. Gravità della reazione avversa ancorafenib reazioni cutanee, grado 2 ancorafenib deve essere continuato. Se l'eruzione cutanea trattata peggiora o non migliore entro due settimane, ancorafenib deve essere interrotto temporaneamente fino a raggiungimento del grado 0 o 1 e poi ripreso alla stessa dose. Grado 3 ancorafenib deve essere interrotto temporaneamente fino a raggiungimento del grado 0 o 1 e poi ripreso alla stessa dose in caso di primo episodio o ripreso a dose ridotta se il grado 3 a ricorrente. Grado 4 ancorafenib deve essere interrotto definitivamente. Sindrome da ritrodisestesia palmoplantare, PES, palmarplantare ritrodisestesia sindrome, grado 2 ancorafenib deve essere continuato e devono essere predisposte misure di supporto come la terapia atopica. Se non si osserva miglioramento entro due settimane nonostante la terapia di supporto, ancorafenib deve essere interrotto temporaneamente fino a raggiungimento del grado 0 o 1 e il trattamento deve essere ripreso alla stessa dose o a dose ridotta. Grado 3 ancorafenib deve essere interrotto temporaneamente e devono essere predisposte misure di supporto come la terapia atopica e il paziente deve essere rivaluta settimanalmente. Ancorafenib deve essere ripreso alla stessa dose o a dose ridotta a raggiungimento del grado 0 o 1. Uveite compresa irite e iridociclite, grado 1, 3. Se l'uveite di grado 1 o 2 non risponde a terapia oculare specifica, ad esempio topica, o in caso di uveite di grado 3, ancorafenib deve essere interrotto temporaneamente e il monitoraggio oftalmico deve essere ripetuto entro due settimane. Se l'uveite di grado 1 e migliora fino a grado 0, allora il trattamento deve essere ripreso alla stessa dose. Se l'uveite di grado 2 o 3 migliora fino a grado 0 o 1, allora il trattamento deve essere ripreso a dose ridotta. Se non migliora entro 6 settimane, il monitoraggio oftalmico deve essere ripetuto ed ancorafenib deve essere interrotto definitivamente. Grado 4. Ancorafenib deve essere interrotto definitivamente e deve essere eseguito un follow-up con un monitoraggio oftalmologico. Prolungamento del QT, QTCF 500 ms e variazione a 0,60 ms rispetto al valore pretrattamento. Ancorafenib deve essere sospeso temporaneamente, vedere paragrafo 4, 4 per il monitoraggio. Ancorafenib deve essere ripreso a dose ridotta quando QTCF a 0,500 ms. Ancorafenib deve essere interrotto definitivamente in caso di piadi una ricorrenza. QTCF 500 ms e aumento di 60 ms rispetto ai valori pretrattamento. Ancorafenib deve essere interrotto definitivamente, vedere paragrafo 4, 4 per il monitoraggio. Alterazioni degli esami di laboratorio epatici, grado 2, aspartato aminotransferasi AST, o alanina aminotransferasi ALT, 3 volte a 0, 5 volte il limite superiore dei valori normali, uln, o per limit of normal. Ancorafenib deve essere continuato. In assenza di miglioramento entro 4 settimane, Ancorafenib deve essere interrotto temporaneamente fino a miglioramento al grado 0 o 1 a livelli pretrattamento barra basali e poi ripreso alla stessa dose. Primo episodio di grado 3, AST, ALT 5 volte l'uln e bilirubina ematica 2 volte l'uln e Ancorafenib deve essere interrotto temporaneamente fino a 4 settimane. Se migliorato al grado 0 o 1 ai livelli basali, deve essere ripreso a dose ridotta. Se non migliorato, Ancorafenib deve essere interrotto definitivamente. Primo episodio di grado 4, AST, ALT 20 volte l'uln e Ancorafenib deve essere interrotto temporaneamente fino a 4 settimane. Se migliorato al grado 0 o 1 a livelli basali, allora deve essere ripreso a dose ridotta. Se non migliorato, Ancorafenib deve essere interrotto definitivamente. Oppure, Ancorafenib deve essere interrotto definitivamente. Grado 3 ricorrente, AST, ALT 5 volte l'uln e bilirubina ematica 2 volte l'uln si deve considerare l'ipotesi di interrompere definitivamente Ancorafenib. Grado 4 ricorrente, AST, ALT 20 l'uln e Ancorafenib deve essere interrotto definitivamente. A criteri comuni di terminologia per gli eventi avversi, NCICT CAE, versione 4 e 03 del National Cancer Institute, tabella 4, modifiche raccomandate della dose di Ancorafenib quando usato in associazione con vinimetinib o con cetuximab per altre reazioni avverse. Gravità della reazione avversa Ancorafenib, reazioni avverse ricorrenti o inaccettabili di grado 2, primo episodio di reazioni avverse di grado 3 Ancorafenib deve essere interrotto temporaneamente fino a 4 settimane, se migliorato al grado 0 o 1 ai livelli basali, deve essere ripreso a dose ridotta. Se non migliorato, Ancorafenib deve essere interrotto definitivamente. Primo episodio di una qualsiasi reazione avversa di grado 4 Ancorafenib deve essere interrotto temporaneamente fino a 4 settimane, se migliorato al grado 0 o 1 ai livelli basali, deve essere ripreso a dosaggio ridotto. Se non migliorato, Ancorafenib deve essere interrotto definitivamente. Oppure, Ancorafenib deve essere interrotto definitivamente. Reazioni avverse ricorrenti di grado 3 Si deve considerare l'ipotesi di interrompere definitivamente Ancorafenib. Reazioni avverse ricorrenti di grado 4 Ancorafenib deve essere interrotto definitivamente. Durata del trattamento Il trattamento deve essere continuato fino a quando il paziente non ne trae PA beneficio o fino allo sviluppo di una tossicità inaccettabile. Dimenticanza di dosi Se una dose di Ancorafenib viene dimenticata, non deve essere assunta se mancano meno di 12 ore alla dose successiva prevista. Vomito In caso di vomito dopo la somministrazione di Ancorafenib, il paziente non deve assumere un'altra dose e deve assumere la dose successiva programmata. Popolazioni speciali Pazienti anziani non ha richiesto alcun aggiustamento della dose per i pazienti di età pari o superiore a 65 anni, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica I pazienti con compromissione epatica da lieve a grave possono avere una maggiore esposizione a Ancorafenib, vedere paragrafo 5, 2. La somministrazione di Ancorafenib deve essere eseguita con cautela alla dose di 300 mg una volta al giorno in pazienti con compromissione epatica lieve, classe A secondo la classificazione Kildpug. Non possono essere fornite raccomandazioni sul dosaggio in pazienti con compromissione epatica moderata, classe B secondo la classificazione Kildpug, o grave, classe C secondo la classificazione Kildpug. Danno renale Non ha richiesto alcun aggiustamento della dose per i pazienti con danno renale lieve o moderato sulla base di un'analisi di farmacocinetica, PK, di popolazione. Non ci sono dati clinici con Ancorafenib in pazienti con danno renale grave. Pertanto, non ha possibile determinare la potenziale necessità di un aggiustamento della dose. Ancorafenib deve essere usato con cautela nei pazienti con danno renale grave, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Popolazione pediatrica La sicurezza e l'efficacia di Ancorafenib nei bambini e negli adolescenti non sono state ancora valutate. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione Braft via per uso orale. Le capsule devono essere deglutite intere con acqua. Possono essere assunte con o senza cibo. Deve essere evitata la somministrazione concomitante di Ancorafenib con succo di pompelmo, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzione di impiego. Ancorafenib deve essere somministrato in associazione con minimetinib per i pazienti con melanoma metastatico o non resecabile positivo alla mutazione Braf V600, o in associazione con cetuximab. Per i pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di altri medicinali su Ancorafenib. Ancorafenib ha principalmente metabolizzato dal CIP 3A4. Inibitori del CIP 3A4. La cosomministrazione di inibitori moderati, Diltiazem, e potenti, posaconazolo, del CIP 3A4 con dosi singole di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere BRAF TOBY insieme ad altri farmaci come Aeurositra con Azzolo Dock Generic Aeuro, Aeurositra con Azzolo Egaeuro, Aeurositra con Azzolo Milangenerics Aeuro, Aeurositra con Azzolo Sandozza Aeuro, Aeurositra con Azzolo Teba Aeuro, Aeurositra Germa Aeuro, Aeuroscaleitra, Compresse rivestite Aeuro, Aeuroscaleitra, Soluzione Aeuro, Aeurosketo con Azzolera Aeuro, Aeurosketo Nova Aeuro, Aeuro Slopinavire Ritonavire Accorda Euro, Aeuro Slopinavire Ritonavire Milan Euro, Aeuro Snizzoblu Euro, Aeuro Snizzoral, Crema Euro, Aeuro Snizzoral, Shampoo Euro, Aeuro Snorvir, Compressa rivestita Euro, Aeuro Snorvir, Polvere per sospensione Euro, Aeuro Snoxafil, Compressa gastroresistente Euro, Aeuro Snoxafil, sospensione Euro, Aeuro Sposa con Azzolo a corda euro a euro sposa con anzolo a claeuro a euro sposa con anzolo e gaeuro a euro sposa con anzolo euro generici a euro a euro sposa con anzolo fresenius cavia euro a euro sposa con anzolo milan farma euro a euro sposa con anzolo milan euro a euro sposa con anzolo sanduza euro a euro sposa con anzolo te va a euro a euro srita navire milan euro a euro srita navire sanduza euro a euro spendere euro, a euro sporandox, capsula a euro, a euro sporandox, soluzione a euro, a euro strazer a euro, a euro striaspolin, capsula a euro, a euro striaspolin, soluzione a euro, a euro. spende compressa rivestita euro a euro spende polvere a euro a euro sfori con azzolo accorda euro a euro sfori con azzolo aristo a euro a euro sfori con azzolo aurobindo a euro a euro sfori con azzolo di rredis a euro a euro sfori con azzolo milan farma euro a euro sfori con azzolo milan euro a euro sfori con azzolo sandoz gba euro a euro sfori con azzolo sandozza euro a euro sfori Iconazolo te va a euro, eccetera. Chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere BRAFTOVI durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere BRAFTOVI durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile barra contraccezione nelle donne. Le donne in età fertile devono usare misure contraccettive efficaci durante il trattamento con ancora fenibile per almeno uno mese dopo l'ultima dose. Encorafenib, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Encorafenib altera lievemente la capacità di guidare o di usare macchinari. Sono stati riportati disturbi visivi in alcuni pazienti trattati con Encorafenib in studi clinici. I pazienti devono essere informati di non guidare veicoli o usare macchinari. Se manifestano disturbi visivi o altre reazioni avverse che possono influenzare la capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La sicurezza di Encorafenib, 450 mg per via orale una volta al giorno, in associazione con Vinimetinib, 45 mg per via orale due volte al, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi a dosi di Encorafenib tra 600 e 800 mg una volta al giorno, ha stato osservato danno renale, ipercreatinemia di grado 3, in tre pazienti su 14. La dose PA elevata somministrata ha avvenuta in seguito a un errore di dosaggio in un paziente che aveva assunto Encorafenib alla dose di 600 mg due volte al giorno per uno giorno, dose totale 1200 mg. Le reazioni avverse riportate da questo paziente sono stati eventi di grado 1 di nausea, vomito e visione offuscata, tutti successivamente risolti. Trattamento. Non esiste un trattamento specifico per il sovradosaggio. Poicacopirait Encorafenib si lega moderatamente alle proteine plasmatiche, è probabile che l'emodialisi sia inefficace nel trattamento del sovradosaggio da Encorafenib. Non esiste un antidoto noto per Encorafenib. In caso di sovradosaggio, il trattamento con Encorafenib deve essere interrotto e deve essere monitorata la funzionalità renale, cosa come le reazioni avverse. Trattamento sintomatico e misure di supporto devono essere fornite secondo necessità. Proprietà farmacodinamiche. Categorie farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, inibitori della proteine kinasi, codice ATC-L01-EC-03. Meccanismo di azione Encorafenib a una piccola molecola ATP competitiva potente e altamente selettiva, inibitore di RAF kinasi. La metà della, proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica di Encorafenib a stata studiata in soggetti sani e in pazienti con tumori solidi, compreso il melanoma cutaneo avanzato e non resecabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF. Dati preclinici di sicurezza. Alla settimana 4 e alla settimana 13 negli studi di tossicità sui ratti sono stati osservati segni clinici, ridotto peso corporeo, peso degli epididimi e peso della prostata ridotti e, elenco degli eccipienti. Contenuto della capsula. Copovidone, E-1208. Polossamero 188. Cellulosa microcristallina, E-460i. Acido succinico, E-363. Crospo vidone, E-1202. Silece colloidale anidra, E-551. Magnesio sterato, E-470b. Rivestimento della capsula gelatina, E-441. Titanio biossido, E-171. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione PA aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMaxi sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.